Per imparare a nuotare, comprendi innanzitutto le norme di sicurezza prima di entrare in acqua. Non dovresti mai cercare di imparare a nuotare per conto tuo. Assicurati che ci sia sempre un adulto, istruttore o bagnino che ti aiuti o ti tenga d'occhio mentre fai pratica. Successivamente, impara a trattenere il fiato. Fai un lungo respiro e aspetta un po' prima di espirare. Una volta che ti senti a tuo agio trattenendo il respiro, entra in acqua in un punto in cui puoi imparare a galleggiare. Chiedi a un adulto di controllarti mentre trovi il tuo equilibrio in acqua. Prova a mantenere la posizione sulla schiena senza assistenza per qualche momento, cercando di non immergere il viso. Esercitati sempre in un punto in cui tocchi, in maniera da poterti alzare in piedi quando è necessario. Dopo aver imparato a stare a galla, aggrappati al bordo della piscina ed esercitati a battere delicatamente i piedi su e giù nell'acqua. Prova a tenere la faccia sott'acqua per qualche secondo mentre trattieni il respiro, ma alza la testa per espirare quando ne senti il bisogno. Per imparare i vari stili di nuoto, come lo stile libero, rana, delfino e dorso, prova a esercitarti con un istruttore qualificato.